Pulizia e sicurezza. Sono queste le richieste dei residenti di via Anzio e via Scimaia a Torre del Greco. Continuano le segnalazioni di cittadini alla redazione di TV City. Da Corso Vittorio Emanuele all'altezza della chiesa di Santa Maria del Popolo si imbocca via Anzio e percorrendo le scale si arriva all'area parcheggio di via Scimaia. In curia e abbandono è questa la fotografia. Non mancano i rifiuti abbandonati lungo le scale e l'erba alta. Stesso scenario dietro alle auto parcheggiate. Questa mattina con le nostre telecamere siamo stati in zona per documentare il degrado e ascoltare la voce dei cittadini. Siamo nel parcheggio di via Scimaia, i cittadini ci segnalano le precarie condizioni in cui versa da tempo quest'area. Parcheggio come mai? Io ho segnalato questa cosa. L'ho segnalato anche al sindaco che mi aveva promesso che sarebbe venuto a pulire sistematicamente. Però purtroppo l'inciviltà delle persone ha fatto sì che questa sistematica pulizia non venisse fatta ogni sei mesi ma passava un po' di tempo e quindi potete ben vedere in che condizioni siamo. Da quanto tempo è che non si pulisce questo parcheggio? Penso sei, otto mesi che non vengono a pulire. Abbiamo delle telecamere che non funzionano. Quindi le telecamere potrebbero smascherare tranquillamente chi viene a sversare, soprattutto la notte, perché poi le luci sono molto fioche. Io chiedo al sindaco di installare delle luci per tutto il parcheggio e se possibile anche gestire il parcheggio come è gestito sul lato di sopra, quindi con i posti macchina, perché qui diventa un parcheggio selvaggio. Non ne parliamo poi delle scale limitrofe a via Anzio in cui sversano di tutto. Quindi di sicuro c'è l'inciviltà ma di certo mancano i controlli. Mancano i controlli innanzitutto. Mancano le telecamere che funzionino, che prendano anche i numeri di targa delle persone che vengono a sversare. E oltretutto a questo una pulizia, una pulizia che non avviene da cinque anni, di tutto il lato giardino che arriva fino a sotto ai palazzi di Via Cimaglia in modo da non avere topi, blatte, che ci tempestano poi d'estate in una maniera incredibile. Sono un abitante storico di Via Cimaglia. Ho abitato in tempi passati e ci torno ad abitare. E purtroppo questa situazione la viviamo sulle nostre spalle. Ma io, lungi da me difendere l'amministrazione comunale, che non va difesa da me, anzi è l'opposto. Però purtroppo i cittadini hanno un modo di fare che l'unico deterrente può essere applicare delle sanzioni. Diciamo che ognuno deve fare la sua parte e che il cittadino torrese va educato. Se non si applicano sanzioni, ma sanzioni dure, nel senso che sversare i rifiuti è un reato penale e va perseguito, le persone continueranno a fare queste cose. Il problema va risolto a monte? Il problema va risolto a livello dirigenziale, organizzativo. Io lo dico, il sindaco in testa, i suoi dirigenti, fino all'ultimo degli operai della nettezza urbana. Purtroppo se non stabiliscono un modus operandi, consono alle esigenze della città, noi non ne usciremo mai da questa situazione. Quali sono le condizioni di questo parcheggio di Via Cimaglia? È disastrato perché è tenuto in massima condizioni igieniche e poi non c'è controllo assolutamente. Soltanto qualche volta si vede qualche pattuglia dei vigili urbani che passano, ho visto occasionalmente, ma non più di tanto assolutamente. Ma di giorno, di sera e terra di nessuno? Terra di nessuno, sì. La sera qua è off limits. Comunque uno ha paura perché non è ben illuminato, non c'è stato controllo, è una solitudine assoluta, ma il problema è l'igiene, l'igiene proprio fa zero. Eppure qui non siamo in una zona periferica? Abbiamo queste le condizioni dei parcheggi, perché quasi tutti i parcheggi attuali sono tenuti in queste condizioni. Qualcuno che sta in una condizione più ottimale come logistica sembra che sia più accudito, ma sono tutti quanti tenuti in queste condizioni. Noi dovremmo essere più educati. L'amministrazione è un po' più attenta, più attenta e più solerta nel fare le loro funzioni che hanno sul territorio. Siamo adesso a via Anzio, abbiamo percorso le scale che sono in pessime condizioni igienico-sanitarie e anche quest'area parcheggio è particolarmente dissestata. Lei vive qui? Sì, io vivo a pochi metri. Volevo far presente all'amministrazione comunale, in primis al sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, di poter intervenire anche in questa zona. Essendo una stradina un po' nascosta, per questo forse non siamo mai presi in considerazione più di tanto. E soprattutto chiedo se è possibile cementare o pavimentare questa zona, perché come vedete, alla fine delle scale c'è un dissesto del terreno. Quindi non è solo una questione di pulizia, ma anche di sicurezza. Sì, di sicurezza soprattutto per tutti i cittadini. È una bradella di collegamento con Corso Vittorio Emanuele. E quindi c'è poca sicurezza per tutti i cittadini. La sera queste scale sono illuminate? Assolutamente no. Quindi diventa anche estremamente pericoloso percorrerle? Certo, certo. La mia opinione è che l'amministrazione dovrebbe venire qui sul posto e fare una valutazione accurata della situazione, perché sono due cose importanti per la città, igiene e sicurezza. Grazie a tutti.